26. Iniziò tutto con una voce storpiata, che chiamava dall'altro lato della porta barricata della palestra. «Calonello! Calonello Macklin!» Macklin, inginocchiato al buio, non rispose. Non molto distante, Roland Croninger tolse la sicura alla Ingram e poteva sentire il respiro rauco di Warner alla sua destra. «Sappiamo che è nella palestra!» continuò la voce. «Abbiamo cercato in tutti gli altri posti! Si è creato una bella piccola fortezza, eh?» Non appena Roland aveva riferito l'incidente nella caffetteria, si erano messi al lavoro per bloccare l'ingresso della palestra con pietre, cavi e parti di macchinari Nautilus da palestra. Il ragazzo aveva avuto l'ottima idea di disseminare il corridoio di frammenti di vetro per tagliare i predoni quando sarebbero arrivati strisciando nel buio su mani e ginocchia. Qualche istante prima della voce, Macklin aveva sentito imprecazioni e borbottii di dolore e sapeva che il vetro aveva fatto il suo lavoro. Nella sinistra teneva un'arma di fortuna, ricavata da una Nautilus Super Pullover. Una barra di metallo di curva, lunga circa sessanta centimetri, con trenta centimetri di catena e una ruota dentata pensolante, come una mazza, all'estremità. «Il ragazzo è là dentro?» chiese la voce. «Ti sto cercando, ragazzo! Mi hai fatto davvero un bel lavoretto, piccolo stronzetto!» Ora Roland seppe che Shore era sopravvissuto, ma dal suono che emetteva, il sergente dell'accoglienza aveva perso mezza bocca. I nervi di Teddy Bear Warner cedettero. «Andatevene! Lasciateci in pace!» «Oh merda!» pensò Macklin. «Adesso sanno di averci trovati!» Seguì un lungo silenzio. Poi Shore disse. «Ha delle persone affamate da nutrire, colonnello, signore! Sappiamo che lì dentro avete un sacco pieno di cibo! Non è giusto che ce l'abbiate tutto voi, no?» Quando Macklin non rispose, la voce distorta di Shore ruggì. «Dacci il cibo, figlia di puttana!» Qualcosa afferrò la spalla di Macklin. Sembrava che un artiglio freddo e duro gli scavasse nella pelle. «Più bocche, meno cibo», sussurrò il soldato ombra. «Sai cosa vuol dire avere fame, vero? Ricordi il pozzo laggiù, Annam. Ricordi cosa hai fatto per avere quel riso, signore!» Macklin annui. Lo ricordava. Oh sì che lo ricordava. Ricordava che sapeva che sarebbe morto se non avesse ottenuto più di un quarto di un piccolo tortino di riso ogni volta che le guardie Vietcong ne gettavano uno nel pozzo. e sapeva che anche gli altri, McGee, Ragsdale e Mississippi, potevano già vedere le loro lapidi. Un uomo aveva un certo sguardo negli occhi quando lo si spingeva contro un muro e lo si spogliava della sua umanità. La sua intera faccia cambiava, come se fosse una maschera che si frantuma per mostrare il volto della vera bestia all'interno. E quando Macklin aveva deciso cosa fare, il soldato Ombra gli aveva detto come farlo. Ragsdale era stato il più debole. Era stata una cosa facile, premergli la faccia nel fango mentre gli altri dormivano. Ma un terzo del riso non era abbastanza, aveva detto il soldato Ombra. Macklin aveva strangolato McGee e ne erano rimasti due. Mississippi era stato il più duro da uccidere. Era ancora forte e aveva respinto Macklin ancora e ancora. Ma Macklin aveva continuato, attaccandolo quando tentava di dormire e alla fine Mississippi aveva perso la testa e si era accucciato in un angolo chiamando Gesù come un bambino isterico. A quel punto era stato facile afferrargli il mento e strattonare la sua testa violentemente all'indietro. Poi tutto il riso fu suo e il soldato Ombra gli aveva detto che era stato molto molto bravo. «Mi sente colonnello, signore?» disse Shore con tono di scherno da dietro la barricata. «Ci di al cibo e ce ne andremo!» «Stronzate!» rispose Macklin. Non aveva più senso nascondersi. «Abbiamo armi qua dentro, Shore!» Voleva disperatamente che l'altro credesse che avevano più di una sola Ingram, un paio di mazze di metallo, una mannaia e delle rocce accuminate. «Ritirati!» «Abbiamo portato anche noi dei giocattoli! Non credo voglia scoprire di che si tratta!» «Stai bleffando!» «Davvero? Beh, signore, lasci che le dica questo! Ho trovato un modo per entrare nel garage! Non ne resta molto! La maggior parte delle cose è a pezzi e non si può arrivare al macchinario del fonte mobile! Ho trovato quello che mi serviva, colonnello signore! E non mi importa niente di quante armi avete là dentro! Ora, il cibo esce o dobbiamo prenderselo?» «Roland», disse Macklin con urgenza. «Stai pronto a fare fuoco!» Il ragazzo mirò con la Ingram in direzione della voce di Shore. «Quello che abbiamo resta qui!» gli rispose Macklin. «Trovatevi il vostro cibo, come noi abbiamo trovato il nostro!» «Non ce n'è più!» disse Shore infuriato. «Figlio di puttana! Non ti ucciderai come hai ucciso tutti gli altri in questo rannato!» «Fuoco!» ordinò Macklin. Roland premette il grilletto senza esitazione. La mitraglietta saltò nelle sue mani, mentre i traccianti sfrecciavano attraverso la palestra come comete scarlatte. Colpirono la barricata e la parete intorno alla porta, schioccando e fischiando follemente mentre rimbalzavano. Nella luce breve e intermittente si riuscì a vedere un uomo, non Shore, che tentava di arrampicarsi nello spazio tra il mucchio di macerie e la cima della porta. Cominciò a ritirarsi quando iniziò il fuoco. Ma ad un tratto urlò, intrappolato nel vetro e tra i cavi che Roland aveva sistemato. I proiettili lo colpirono e lui si agitò aggrovegliandosi ancora di più. Le sue urla cessarono. Delle braccia si alzarono, afferrarono il corpo e lo trascinarono indietro nel corridoio. Roland tolse il dito dal grilletto. Le sue tasche erano piene di proiettili e il colonnello lo aveva addestrato a ricaricare rapidamente. Il rumore della mitraglietta si spense. I predoni restarono in silenzio. «Se ne sono andati!» gridò Warner. «Li abbiamo fatti fuggire!» «Sta zitto!» lo ammonì Macklin. Vide una scintilla di luce nel corridoio, qualcosa che avrebbe potuto essere un fiammifero acceso. L'istante dopo, qualcosa di infuocato volò oltre la barricata. Cadde a terra con il rumore del vetro che si rompe e Macklin ebbe un istante per sentire l'odore di benzina prima che la Molotov esplodesse come un muro di fuoco che volava attraverso la palestra. Abbassò repentinamente la testa dietro la pila di roccia che lo copriva, mentre i frammenti di vetro si bilavano come vespe intorno alle sue orecchie. Le fiamme lo superarono e quando l'esplosione fu finita alzò la testa e vide una pozzanghera di benzina in fiamme a quattro metri di distanza. Anche Roland si era chinato, ma piccoli frammenti di vetro gli avevano colpito la guancia e la spalla. Il ragazzo alzò la testa e sparò di nuovo contro l'ingresso. I proiettili colpirono la cima della barricata e rimbalzarono innocui. «Ti piace, Macklin?» lo derise Shore. «Abbiamo trovato della benzina in alcuni dei serbatoi delle auto! Abbiamo trovato anche degli stracci e qualche bottiglia di birra! Ne abbiamo altri nel posto da qui arrivata quella! Ti piace?» La luce del fuoco riverberava sulle pareti della palestra distrutta. Macklin non lo aveva previsto. Shore e gli altri potevano restare dietro la barricata e lanciare quella bastarda da sopra. Sentì un qualche attrezzo di metallo graffiare i rottami che bloccavano la porta e alcune delle rocce scivolarono via. Una seconda bottiglia piena di benzina, con uno straccio infuocato e infilato dentro, volò nella palestra ed esplose vicino al capitano Warner, che si accovacciò dietro un mucchio di pietre metallo piegato e pesi degli attrezzi. La benzina schizzava come l'olio in una padella e il capitano emise un urlo quando fu colpito da schegge di vetro volanti. Roland sparò verso la porta, mentre una terza bomba cadeva tra lui e il colonnello Macklin e dovette saltare di lato mentre della benzina incendiata gli schizzava verso le gambe. Delle schegge di vetro colpirono il giubbotto di Macklin e una lo colpì sopra il sopracciglio destro e gli scagliò indietro la testa come se l'avesse colpita un pugno. Le macerie della palestra, materassini, asciugamani, piastrelle del soffitto, moquette strappata e pannellatura di legno stavano prendendo fuoco. Il fumo e i vapori di benzina vorticavano nell'aria. Quando Roland alzò di nuovo la testa, poteva vedere delle figure annebbiate scavarsi furiosamente un passaggio nella barricata. Sparò un'altra raffica di proiettili e loro si precipitarono di nuovo nel corridoio come scarafaggi in una buca. In risposta esplose una bottiglia di Dr. Pepper piena di benzina, le cui fiamme bruciarono il volto di Roland e risucchiarono l'aria dai suoi polmoni. Sentì un dolore pungente e si guardò la mano sinistra. Era coperta di fiamme e dei cerchi grandi quanto un dollaro d'argento bruciavano su tutto il suo braccio. Gridò di terrore e arrancò verso il secchio del mocio pieno di acqua del gabinetto. Le fiamme stavano crescendo. Si stavano fondendo e avanzavano attraverso la palestra. Un'altra parte della barricata crollò e Macklin vide entrare i predoni. Li guidava Shore, armato con un manico di scopa appuntito come una lancia e uno straccio intriso di sangue avvolto intorno al volto gonfio e dall'espressione selvaggia. Alle sue spalle c'erano tre uomini e una donna, tutti con armi primitive, pietre dal bordo frastagliato e mazze fatte di mobili rotti. Mentre Roland si lavava freneticamente via la benzina in fiamme, Teddy Bear Warner uscì soppicando dal suo riparo e cadde in ginocchio davanti a Shore, con le mani in alto per chiedere pietà. «Non uccidermi!» implorò. «Sono con voi! Giuro su Dio! Sono con...» Shore conficcò il manico di scopa appuntito nella gola di Warner. Anche gli altri sciamarono su di lui, colpendo e scalciando il capitano mentre questi si agitava sulla punta della lancia. La fiamma proiettava le loro ombre sulla parete, come fossero danzatori dell'inferno. Poi Shore estrasse la lancia dalla gola di Warner e si voltò verso il colonnello Macklin. Roland raccolse la ingram accanto a lui. Improvvisamente una mano si strinse sulla sua nuca, strattonandolo in piedi. Vide l'immagine confusa di un uomo in abiti stracciati che torreggiava su di lui, pronto a spaccargli la testa con una roccia. Shore caricò Macklin. Il colonnello si mise in piedi, barcollando, per difendersi con la mazza di alta tecnologia. L'uomo che teneva la nuca di Roland fece un suono soffocato. Indossava degli occhiali con lenti fratturate, tenute insieme all'attaccatura del naso con del nastro adesivo. Shore fece una finta con la lancia. Macklin perse l'equilibrio e cadde, torcendosi di lato, mentre la lancia gli graffiava al fianco. «Roland, aiutami!» urlò. «Oh, mio Dio!» ansimò l'uomo con gli occhiali rotti. «Roland, sei vivo?» Roland pensò che la voce dell'uomo era familiare, ma non era certo. Non c'era più nulla di certo, tranne che lui era un cavaliere del re. Tutto quello che era accaduto prima di quel momento era composto da ombre, incerte e inconsistenti, e questa era la vita vera. «Roland!» disse l'uomo. «Non riconosci tu!» Il ragazzo sollevò la Ingram e fece saltare via la maggior parte della testa dell'uomo. L'estraneo barcollò all'indietro, con i denti rotti che battevano in una maschera di sangue, e cadde nel fuoco. Gli altri si lanciarono sul sacchetto della spazzatura e lo tirarono violentemente, strappandolo e lottando l'uno con l'altro per i resti. Roland si voltò verso Shore e il colonnello Macklin. Shore stava cercando di infilzare il colonnello con la sua lancia, mentre Macklin usava la sua mazza di metallo per parare i colpi. Il colonnello era costantemente costretto ad arretrare verso un angolo, dove la sfarfallante luce del fuoco rivelò una grande bocca di ventilazione nel muro crepato, con la griglia di chiusura che pendeva da una vite. Roland iniziò a sparare, ma le figure furono avviluppate dal fumo, e lui temeva di colpire il re. Il suo dito fremeva sul grilletto, e poi qualcosa lo colpì in fondo alla schiena, e lo fece cadere a faccia avanti sul pavimento, dove restò tentando di respirare. La mitraglietta gli cadde di mano, e la donna, con i folli occhi cerchiati di rosso che aveva scagliato la roccia, strisciò su mani e ginocchia per raccoglierla. Macklin cercò di colpire la testa di Shore con la sua mazza. Shore si chinò, inciampando su rocce e macerie in fiamme. «Forza!» gridò Macklin. «Vieni a prendermi!» La donna folle strisciò oltre Roland e raccolse la mitraglietta. Il ragazzo era stordito, ma sapeva che sia lui sia il re sarebbero morti se lei fosse stata in grado di usare l'arma. Le afferrò il polso, e lei strillò e lottò digrignando i denti. Sollevò l'altra mano e tentò di infilargli le dita negli occhi, ma lui distolse la testa per evitare di essere accecato. La donna divincolò il polso, e sempre strillando, prese la mira con la mitraglietta. Sparò, e i traccianti sfrecciarono attraverso la palestra. Ma non stava mirando al colonnello Macklin. I due uomini che stavano lottando per la spazzatura furono colpiti dai proiettili, e sembrarono ballare come se le loro scarpe stessero andando a fuoco. Caddero a terra, e la donna folle arrancò verso gli avanzi con l'arma stretta al seno. Il rumore della Ingram aveva fatto voltare la testa a Shore, e Macklin scattò in avanti, colpendo l'altro al fianco con la mazza. Sentì le costole di Shore frantumarsi come rametti calpestati. Shore urlò, tentò di arretrare, inciampò e cadde in ginocchio. Macklin sollevò la mazza in alto, la batte in mezzo alla fronte di Shore, e il cranio dell'uomo cedette. Poi il colonnello si fermò sul corpo, e colpì il cranio, ancora e ancora. La testa del sergente iniziò a cambiare forma. Roland era in piedi. A poca distanza, la donna folle si stava riempiendo la bocca con il cibo bruciato. Le fiamme stavano diventando più alte e più calde, e un fumo denso passò accanto a Macklin quando finalmente la forza del suo braccio sinistro venne meno. Lasciò cadere la mazza, e diede al cadavere di Shore un ultimo calcio nelle costole. Il fumo attirò la sua attenzione. Lo vide scivolare nel condotto, che era alto circa 90 centimetri e largo altrettanto. Abbastanza grande per strisciarci dentro, si rese conto. Gli ci volle un minuto per scacciare la stanchezza dalla sua mente. Il fumo era aspirato nel condotto. Aspirato. Dove andava? Verso la superficie del Blue Dome? Verso il mondo esterno? Ormai non gli interessava più del sacco di spazzatura. Non gli importava di Shore, della donna folle o della Ingram. Doveva esserci un modo per salire lassù, da qualche parte. Strappò via la griglia e strisciò nel condotto. Portava verso l'alto, a un angolo di 45 gradi, e i piedi di Macklin trovarono le teste delle viti nella superficie d'alluminio, contro cui fare forza per spingersi. Non c'era luce davanti, e il fumo era quasi soffocante, ma Macklin sapeva che quella avrebbe potuto essere la loro unica possibilità per uscire. Roland lo seguì, risalendo dietro al re in questo nuovo turno della partita. Alle loro spalle, nella palestra in fiamme, sentirono la voce della donna folle risalire nel condotto. Dove sono andati tutti? Fa caldo qua dentro, così caldo. Io sa che non ho fatto tutta questa strada per cuocere in una galleria di miniera. Qualcosa in quella voce strinse il cuore di Roland. Ricordava una voce come quella di molto tempo prima. Continuò a muoversi, ma quando la donna folle urlò, e l'odore di carne bruciata risalì nel condotto, dovette fermarsi e mettere le mani sulle orecchie, perché quel suono faceva girare il mondo troppo in fretta che lui temeva di essere scagliato via. L'urlo cessò dopo un po', e tutto quello che il ragazzo riuscì a sentire era il costante contorcersi del corpo del re più avanti nel condotto. Tossendo, e con gli occhi che lacrimavano, Roland si spinse avanti. Arrivarono a un punto in cui il condotto era stato schiacciato. La mano di Macklin ne trovò un altro che si diramava da quello che avevano percorso. Questo era più stretto, e si serrò intorno alle spalle del colonnello mentre ci si infilava. Il fumo era ancora terribile, e i suoi polmoni bruciavano. Era come strisciare su per una ciminiera con un fuoco acceso in basso, e Roland si chiese se era così che si sentiva Babbo Natale. Più avanti, le dita di Macklin toccarono della fibra di vetro. Era parte del sistema dei filtri dell'aria e delle griglie che purificavano quello che gli abitanti di Earth House respiravano in caso di attacco nucleare. Di sicuro aveva aiutato moltissimo, vero? Pensò Tetro. Strappò via il filtro, e continuò a strisciare. Il condotto si incurvava gradualmente verso sinistra, e Macklin dovette attraversare molti altri filtri e grate fatte di gomma e nylon. Faticava molto a respirare, e sentiva Roland ansimare dietro di lui. Quel bambino era dannatamente duro, pensò. Chiunque avesse una volontà di vivere come quel bambino era una persona con cui fare i conti, anche se sembrava una mammoletta di 40 chili. Macklin si fermò. Toccò del metallo davanti a lui, lame che si irradiavano da un perno centrale. Una delle ventole che aspirava l'aria dall'esterno. «Dobbiamo essere vicini alla superficie», disse. Il fumo lo stava ancora superando nel buio. «Dobbiamo essere vicini!» Mise la mano contro il perno della ventola e spinse fino a quando i muscoli della sua spalla non schioccarono. La ventola era imbullonata saldamente al suo posto, e non si spostava. «Maledetta!» pensò con rabbia. «All'inferno, maledetta!» spinse di nuovo, con tutta la forza che aveva. Ma tutto quello che ottenne fu di stancarsi. La ventola non li avrebbe fatti uscire. Macklin appoggiò la guancia contro l'alluminio freddo e provò a pensare. Tentò di raffigurare nella sua mente le planimetrie di Earth House. «Come si faceva la manutenzione alle ventole d'aspirazione? Pensa!» Ma fu incapace di ricordare correttamente le planimetrie. Continuavano a tremolare e a cadere a pezzi. «Ascolti!» esclamò Roland. Macklin lo fece. Non riusciva a sentire nulla a parte il battito del suo cuore e i suoi polmoni che ansimavano Rocky. «Sento il vento!» disse Roland. «Sento il vento che si muove qua sopra!» Sollevò una mano e sentì il movimento dell'aria. Il lieve suono di un vento acuto arrivava direttamente da sopra di loro. Fece scorrere la mano su un muro crepato sulla sua destra, poi sulla sua sinistra, e scoprì dei pioli di ferro. «C'è un modo per salire! C'è un altro condotto sopra le nostre teste!» Afferrando il piolo più in basso, Roland si tirò su in posizione eretta, piolo dopo piolo. «Mi sto arrampicando!» disse a Macklin e iniziò a salire. L'urlo del vento era più forte, ma ancora non c'era luce. Si era arrampicato forse per sei metri quando la sua mano toccò una ruota metallica sopra la sua testa. Esplorando, le sue dita scivolarono su una superficie crepata di cemento. Roland pensò che doveva trattarsi del coperchio di un portello, come quelli di una torretta di un sottomarino che si poteva aprire e chiudere con una maniglia a ruota. Ma poteva percepire il forte risucchio dell'aria in quel punto, e dedusse che l'esplosione doveva aver staccato il portello perché non era più sigillato. Afferrò la ruota e tentò di girarla. Non c'è dette. Roland attese un minuto, richiamando le sue forze e la determinazione. Semmai avesse avuto bisogno del potere di un cavaliere del re, era in quel momento. Attaccò nuovamente la ruota. Questa volta credette di averla spostata di un paio di centimetri, ma non era sicuro. Roland! Chiamò il colonnello Macklin dal basso. Finalmente era riuscito a ricostruire le planimetrie nella sua mente. Il condotto verticale era usato dai tecnici per cambiare i filtri dell'aria e le grate in quel particolare settore. Dovrebbe esserci un coperchio di cemento lassù! Si apre sulla superficie! L'ho trovato! Sto cercando di aprirlo! Si stabilizzò infilando un braccio nel piolo più vicino. Afferrò la ruota e tentò di girarla con ogni grammo di muscolo che gli restava in corpo. Tremò per lo sforzo, con gli occhi chiusi e gocce di sudore gli comparvero sul volto. Forza! Incitò il destino. Oddio! Il diavolo! Chiunque si occupasse di queste cose! Forza! Continuò a sforzarsi, non disposto ad arrendersi. La ruota si mosse. Un paio di centimetri. Poi un altro paio. Poi dieci centimetri. Ci sono! gridò Roland e iniziò a girare la ruota con un braccio dolorante e tremante. Una catena sferragliò in degli ingranaggi e adesso il vento stava fischiando. Sapeva che il coperchio si stava alzando, ma non vide alcuna luce. Roland aveva fatto fare altri quattro giri completi alla ruota quando ci fu un ululato di vento e l'aria, piena di sabbia pungente, vorticò follemente intorno al condotto. Il ragazzo fu quasi risucchiato fuori e si aggrappò a un piolo con entrambe le mani mentre il vento lo strattonava. Era debole per la sua battaglia contro la ruota, ma sapeva che se avesse ceduto la tempesta avrebbe potuto sollevarlo nell'oscurità come un aquilone, per non rimetterlo a terra mai più. Gridò chiedendo aiuto, ma nemmeno lui stesso riusciva a sentire la sua voce. Un braccio senza mano si avvolse intorno alla sua vita. Macklin lo teneva e insieme scesero lentamente dai pioli. Si ritirarono nel condotto. «Ce l'abbiamo fatta!» urlò il colonnello al di sopra dell'ululato. «Questa è la via d'uscita!» «Ma non possiamo sopravvivere là dentro! È un tornado!» «Non a lungo ancora! Si consumerà! Ce l'abbiamo fatta!» Iniziò a piangere, ma ricordò che disciplina e controllo facevano un uomo. Non aveva concezione del tempo, nessuna idea su quanto tempo fosse passato da quando aveva visto per la prima volta quei missili sullo schermo radar. Doveva essere notte, ma di quale giorno? Non lo sapeva. La sua mente corse alla gente che era ancora dentro Earth House, morti, impazziti o persi nell'oscurità. Pensò a tutti gli uomini che lo avevano seguito in questo lavoro, che avevano avuto fede in lui e lo avevano rispettato. La sua bocca si contorse in un sorriso storto. «È folle!» pensò. Tutti quei soldati e ufficiali esperti perduti. E solo questo ragazzino secco con gli occhi difettosi era rimasto accanto a lui per continuare. «Che scherzo! Tutto quello che restava dell'esercito di Macklin era un mingerlino sfigato delle superiori!» Ma ricordò come Roland aveva razionalizzato di mettere al lavoro i civili, la calma con cui aveva fatto il suo lavoro in fondo a quel terribile pozzo dove era rimasta la mano di Macklin. Il ragazzo aveva le palle. Più delle palle. Qualcosa di Roland Kroninger metteva Macklin un po' a disagio, come se sapesse che sotto una lastra di pietra su cui doveva camminare si nascondeva una cosa piccola e mortale. Lo aveva visto negli occhi del ragazzino quando gli aveva raccontato del contrattempo con Shore nella caffetteria e nella sua voce quando Roland aveva detto «abbiamo delle mani!» Una cosa, Macklin la sapeva di certo. Avrebbe preferito avere il ragazzino al suo fianco piuttosto che alle sue spalle. «Usciremo quando la tempesta sarà finita!» gridò Macklin. «Noi vivremo!» E poi le lacrime gli riempirono gli occhi, ma rise perché il ragazzino non se ne accorgesse. Una mano fredda gli toccò la spalla. La risata di Macklin si interruppe. La voce del soldato ombra era molto vicina al suo orecchio. «Giusto, Jimbo. Noi vivremo!» Roland rabbrividì. Il vento era freddo e lui spinse il suo corpo contro quello del re per scaldarsi. Il re esitò e poi mise il braccio senza mano intorno alle spalle del ragazzo. Presto o tardi la tempesta sarebbe finita. Roland lo sapeva. Il mondo avrebbe aspettato. Ma sarebbe stato un mondo diverso, una partita diversa. Sapeva che non sarebbe stata affatto come quella appena finita. Nella nuova partita le possibilità per un cavaliere del re potevano essere illimitate. Non sapeva dove sarebbero andati o cosa avrebbero fatto. Non sapeva quanto restava del vecchio mondo. Ma anche se tutte le città fossero state bombardate, dovevano esserci branchi di sopravvissuti che vagavano per le terre desolate o nascosti nei seminterrati in attesa. In attesa di un nuovo capo. In attesa di qualcuno abbastanza forte per piegarli al suo volere e farli ballare nella nuova partita che era già iniziata. Sì, sarebbe stata la più grande partita di sempre al gioco del cavaliere del re. Il campo di gioco si sarebbe esteso in città rovinate, città fantasma, foreste annerite e deserti dove un tempo c'erano prati. Roland avrebbe imparato le regole giocando, proprio come tutti gli altri. Ma lui era già un passo avanti perché si rendeva conto che c'era un grande potere da afferrare, per i più astuti e forti. da afferrare e da usare come un'ascia sacra, pronta sopra la testa dei deboli. E forse, solo forse, la sua sarebbe stata la mano che l'avrebbe tenuta, assieme al re, ovviamente. Ascoltò il ruggito del vento e immaginò che pronunciasse il suo nome con una voce potente e che lo trasportasse sulle terre devastate come una promessa di potere in divenire. Sorrise nell'oscurità, con il volto imbrattato del sangue dell'uomo a cui aveva sparato e attese il futuro.